Radio Radicale, siamo con l'On. Bagnasco di Forza Italia per parlare del referendum sulla cannabis. Allora, qual è la sua posizione su questo referendum? Volevo sapere se lei è favorevole alla legalizzazione della cannabis, visto che poi anche la scorsa settimana è arrivato qui, è stata approvata alla Camera il testo base in Commissione Giustizia sulle mini-coltivazioni di cannabis. Sì, io non aggiungo niente di nuovo nel dire che il mio parere, che è un parere sicuramente personale, ma è anche la posizione ufficiale di Forza Italia, non da oggi ma da sempre, anche quando governavamo attraverso il Presidente Berlusconi, noi siamo favorevoli all'uso terapeutico della cannabis e fortemente contrarie a tutti gli altri usi. Quindi questa è la posizione ufficiale. È chiaro che il nostro partito è un partito liberale, ci potranno essere anche dei pensieri diversi, ma non è la linea ufficiale di Forza Italia. Da farmacista, le volevo chiedere se la cannabis secondo lei fa più bene o più male? No, la cannabis fa bene per l'uso terapeutico, è assolutamente una questione da affrontare con grande attenzione. Qui sì che possiamo aggiungere qualcosa perché ad oggi succede spesso, devo dire con grande serenità, che si abbia difficoltà per i pazienti che hanno bisogno di antidolorifici, si abbia difficoltà a procurarsi questo prodotto. Questo non deve più succedere. Noi abbiamo in Italia solamente, che produce questa sostanza, abbiamo solamente l'Istituto Militare di Firenze, la fa molto bene, di altissima qualità, devo dire, ma assolutamente insufficiente. Dobbiamo aprirci anche a poter acquistare seriamente, seriamente, rispetto, prodotti dall'estero, ovviamente di alta qualità perché è un prodotto che deve, per essere terapeuticamente positivo, deve essere anche molto molto selezionato. Come ha trovato la notizia che la Federazione di Atletica Leggera vuole togliere la cannabis tra le sostanze dopanti? Se lo fa vuol dire che poi non fa così? Ma io credo che questo sia, alla base di questo discorso, ci sia un fatto più sportivo, che di considerazioni sportive rispetto ad altri tipi di valutazione. Evidentemente si considera che la cannabis non porti degli aiuti importanti dal punto di vista delle prestazioni sportive e quindi questa è la valutazione che sta facendo o che farà, vedremo, la Federazione di Atletica Leggera o altre federazioni. Loro dicono che la cannabis non è un prodotto, non dicono che la cannabis è positiva o negativa. Dicono che non è un prodotto dopante, nel senso che non è un prodotto che migliora le prestazioni sportive. Come ha trovato il fatto che in tre giorni di raccolta delle firme siano state raccolte 300.000 firme? Ma io penso che evidentemente su questi temi è chiaro che non abbiamo la presunzione di essere maggioritari. Io credo che bisogna portare avanti le posizioni in cui si crede, indipendentemente, evidentemente, da quelle che sono le considerazioni generali. È chiaro che la cannabis è entrata un pochino nel consenso collettivo, che tutti dicono, molti dicono, e secondo me sbagliando dal punto di vista farmaceutico profondamente, che non porta danni, che non è assolutamente dannosa. Questo non è assolutamente vero, porta anche dei danni cerebrali che sono assolutamente ormai dimostrati e super dimostrati. Questo purtroppo non è recepito dalla grande maggioranza delle persone, quindi evidentemente queste persone possono rispondere anche in maniera, che io credo, con molta modestia, profondamente sbagliata. Bene, la ringrazio della sua disponibilità, ringrazio l'On. Bagnasco di Forza Italia. Grazie.